Partita equilibrata, difficile, una battaglia con punti in paio pesantissimi per la classifica e anche per tutto, partita difficile. Lavoriamo tanto su di noi, loro sono una bella squadra, organico importante. Lo dimostrano le ultime vittorie, non è certo una squadra da quella posizione lì, però anche la Pistoiese sta bene ultimamente e quindi ce la giochiamo la partita, sempre per fare il massimo. Dipende da monte, ma nella linea di massima ho intenzione di fare pochi cambi, se faccio pochissimi, a me mi sta aggravando la squadra ultimamente, quindi in linea di massima potrei andare in quel modo lì. Forse dipende da monte, da loro, se ce la fa potrei avere un cambio, se non ce la fa però a linea di massima la squadra è quella. Ognuno gioca nel suo ruolo e quindi vediamo un attimino. Non ho l'intenzione però di fare grandi stravolgimenti, sono contento della squadra dell'ultima domenica, del gioventolo. Mi aspetto una squadra forte che venga a giocarsela per continuare il treno, però dall'altra parte troverà una Pistoiese pronta. No, io guardo domani la partita, che è una partita di valore importantissimo, farla bene ci darebbe tantissimo e guarderesti tutto quello fatto fino ad oggi con un'ottica leggermente diversa, che fino ad ora non gli è stato mai dato valore. Quindi domani guardo solo la partita di domani. Ci tengo tantissimo a far bene domani, noi ci teniamo tantissimo, la squadra si è venuta bene. Sappiamo che è un impegno che ci tiene anche tantissimo a tifoseria, che vogliamo onorare la maglia per il massimo. Ci metteremo tutto. Ci metteremo tutto.